D'Ambrosio, prego. Grazie, Presidente. Presidente, questo emendamento soppressivo del comma 2 fa seguito a quelle che sono le perplessità che più volte in questo percorso abbiamo evidenziato, anche nel corso di quel piccolo dibattito che tutto sommato c'è stato in Commissione. La formulazione di questo comma, che ha in sé la chiave della democrazia, si lega principalmente a quello che è l'articolo 49 della Costituzione, che prima più volte ho sentito citare, che ribadisco, dice, cito testualmente, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ora, citare questo articolo all'interno di quello che è questo disegno di legge, che dovrebbe regolamentare il finanziamento ai partiti, ci sembra piuttosto strumentale, anche perché quando ci sentiamo nominare questo articolo e ci si dice che ci si muove nel solco di questo articolo, effettivamente la cosa va un pochino in contraddizione, invece, quando parliamo poi del 138 nel solco del quale, invece, nessuno si vuole muovere. E invece lì tutti quanti si vogliono spostare da quel benedetto 138 che è il cardine della nostra Costituzione. Ed allora io, parlando di democrazia e quindi di finanziamento ai partiti, che è il concreto invece del disegno di legge nel quale ci stiamo muovendo, io voglio ricordare che, è un esempio lampante, farò l'esempio della mia terra, la Puglia, circa un anno fa, un anno abbondante fa, oltre 20.000 cittadini pugliesi hanno firmato una legge di iniziativa popolare, quindi con il referendum dovrebbe essere abbastanza vicino come iniziativa, si chiamava Zero Privilegi Puglia. Questa iniziativa di legge, portata all'interno del Consiglio regionale in Puglia, chiedeva semplicemente una cosa, posto che i partiti non devono prendersi soldi, i finanziamenti pubblici ai partiti, e posta la situazione economica italiana di grande difficoltà, si chiedeva uno sforzo alla politica tutta presente nel Consiglio regionale, semplicemente di dimezzare gli stipendi dei consiglieri regionali. Ebbene, all'interno del Consiglio regionale pugliese, quella proposta per la prima volta portata in Consiglio regionale pugliese è stata bocciata all'unanimità dai consiglieri regionali pugliesi. Non solo, il Presidente della Regione, che fa parte al partito che in qualche modo qui vuole fare da tramite con i cittadini e che fino a qualche tempo fa era uno dei Presidenti più pagati dell'intera Italia, effettivamente ha riconosciuto questa cifra che era spropositata riducendosi lo stipendio stesso, ma prima ancora giustificava questa cifra dicendo che la metà di questo suo stipendio in realtà non andava a sé, ma andava al partito. E allora io qui davvero di cuore pongo una domanda. Siccome questa è una prassi non solo del partito del Presidente pugliese, ma di vari parlamentari e consiglieri regionali presenti in tutta Italia, davvero vi chiedo, ma guardate i cittadini, guardate la situazione dei cittadini, voi davvero pensate che oltre i soldi che dal vostro stipendio date al partito e non ai cittadini, come il Movimento 5 Stelle fa, voi volete tenervi anche questi soldi? Non vi bastano ancora quei soldi? E al collega del Partito Democratico rivolgo un accorato appello. Quando parla di nemici, avversari, io voglio ricordare soltanto un nome, un nome che viene abbinato ad una cifra, 23 milioni di euro rubati ai cittadini italiani da un certo Lusi e quindi quando penso a questo, quando penso a questo non penso né a nemici né ad avversari, ma penso semplicemente a ladri.